e la PSS e anche in prospettiva tutti gli altri enti del nostro territorio. Velocemente inquadriamo il tema CRM, che cos'è un CRM? Che è un acronimo inglese che sta per Customer or Citizen Relationship Management, gestione delle relazioni con le persone, con i cittadini, la visione della provincia autonoma, come la vediamo noi insomma su questo tema, e poi il collega, il dottor Ettore Turra, presenterà la soluzione che è già a uno stadio molto avanzato, che si chiama ETOM. Eccoci, questa vi sembrerà una cosa scontata, però solo proprio per concentrarci sul problema, semplificandolo forse in modo eccessivo, ma rendendolo molto semplice. Allora, che rapporto c'è tra la pubblica amministrazione e i cittadini? Fondamentalmente su due grandi pilastri, ci sono delle attività e delle iniziative che la pubblica amministrazione fa verso i cittadini, sono delle opportunità, delle cose che l'APA organizza, delle opportunità a 360 gradi, sono delle cose che hanno una direzione molto evidente, dall'APA ai cittadini, ma la cui informazione spesso è un'informazione che va ricercata. E poi l'esatto contrario, ci sono delle azioni che i cittadini devono fare per i propri interessi e oneri, cioè se devo pagare una multa, me ne devo occupare io, magari mi viene notificata, me ne devo occupare io e devo espletare tutto il percorso. Se devo pagare il bollo, devo ricordarmi magari della sua scadenza, nel 80% dei casi nel territorio italiano è così, e pagarlo. Quindi da una parte delle cose su cui devo essere informato, che fa l'APA autonomamente, dall'altra sono dei miei oneri. Tutti questi eventi sono eventi che hanno questa direzione, cioè il cittadino che deve andarseli a cercare. Forse non tutti, ma una buona parte di questi. Siamo partiti da questo discorso fondamentalmente per cambiare la freccia. E cioè, cerchiamo di costruire un sistema, scusate, un sistema nel quale è la pubblica amministrazione che va alla ricerca del cittadino e gli consegna l'informazione di cui ha bisogno. L'informazione è il percorso di cui ha bisogno. Intanto che vi presento le slide vi racconto un episodio di alcuni giorni fa, vero, fuori dal nostro territorio, in una regione diversa, in cui a un soggetto scade il medico di base. Come si accorge? Si accorge perché va in ambulatorio, stava a mal di testa, e vede un cartello in cui c'è scritto il medico di base ha cessato, il tal medico di base ha cessato il servizio perché è andato in pensione il 31-12-2017. Caso evidente, quella persona non era stata assolutamente avvertita che il medico di base era scaduto e quindi, magari in una situazione anche di disagio, perché se sta andando al medico di base e non sta bene, deve andare allo sportello scelta e revoca. Quindi, cosa dobbiamo fare per invertire questa direzione? Dobbiamo fare due cose. Sapere chi sono, dove abitano, di cosa hanno bisogno i nostri cittadini. Anche qui direte, beh, è una sciocchezza questa, lo sappiamo, ci sono le anagrafi. E' certo che sappiamo chi sono, sappiamo dove abitano e sappiamo di cosa hanno bisogno. Non è vero. I cittadini sono una proprietà informativa di ogni comune. Un territorio, una regione o un territorio che disegnate liberamente sulla mappa italiana non sa chi abita lì, lo sanno solo i comuni. Quindi, per pensare che un intero territorio possa contattare, possa conoscere i propri cittadini, bisogna pensare a una base dati che unisca tutte quelle informazioni. L'altra cosa, anche questa un po' provocatoria, è sapere cosa fa l'APA. Come l'APA che dice che non sa cosa fa. E' proprio così. Se noi pensassimo e cercassimo una persona unica, oppure un sistema informativo unico, che conosce tutti i servizi che fa l'APA, non lo troveremmo. Quindi vedete che un CRM, arriviamo al dunque, questo sistema che nasce nel suo acronimo come customer, quindi cliente, ed è, nel caso dell'APA viene cambiato in citizen, cittadino, si pone l'obiettivo di costruire una base dati di tutti i suoi cittadini e costruire un secondo pilastro informativo di tutti i servizi, di tutte le informazioni di cui questi cittadini hanno bisogno. Ecco, ancora una, vi ho messo una citazione dall'ex sindaco di New York, perché mi sembrava molto bella, poi ve la traduco velocemente, ma è abbastanza intellegibile. Quindi, l'altro concetto importante, e veramente su queste tre cose, poi alla fine il CRM si definisce, è quello del non indifferenziato. Cioè, quando io so quali sono tutti i miei cittadini, so quali sono i miei servizi, cerco di portare l'informazione ai miei cittadini, non generalista. Se uno non ha figli, se una famiglia non ha figli, è inutile che io gli scriva, che puoi iscriversi a scuola, o che ha, facciamo il caso di prima, se il medico di base non è andato in pensione, non devo scrivergli, ma se è andato in pensione, sì. E il sindaco di New York dice che questo sistema è il più potente che la città di New York ha come, a livello di sistema informativo. Non riesce a immaginare di, è molto bello anche l'inglese qui, running in the city, di far correre, traduciamolo letteralmente, di far correre la città senza questa roba, insomma. È impensabile far correre la città senza una cosa così. E New York ha fatto un investimento pazzesco su queste cose. Poi magari torneremo in chiusura con una battuta anche di come hanno fatto a fare questa cosa. PAT, la provincia autonoma di Trento, si è mossa in questa direzione anche dal punto di vista della normativa, perché è molto importante quando parliamo di informazioni, di dati e di servizi, avere anche la potenza, la potenzialità del quadro normativo. In una legge recentissima troverete, adesso non sto a leggervi tutto, andiamo un pochino di corsa, ma trovate una prima cosa molto importante, che è quella che il cittadino va avvisato. Vi ricordate le due direzioni di prima. Non posso più io pensare che siccome ho dichiarato una scadenza, l'ho dichiarata, l'ho stampata, l'ho pubblicizzata il più possibile, basti. Tenete sempre in mente quel povero soggetto che va all'ambulatorio e scopre lì che il medico è andato in pensione. Devo avvisarlo, devo consegnargli al suo recapito, alla sua individualità, l'informazione precisa di quella scadenza. La seconda cosa molto importante, molto importante è la base dati. È un concetto che vi dicevo prima, cioè se dobbiamo costruire un servizio ad hoc per i nostri cittadini, dobbiamo avere una base dati territoriale, che sia una base dati, ma ci torneremo fra un attimo, non legata al singolo comune, non legata alla singola, ma forzando un po' il concetto, nemmeno legata al singolo residente. Perché io Trentino ha come obiettivo, molto futuribile in questo momento, anche di avere nella propria base dati, per esempio, soggetti che sono venuti nel nostro territorio a fare delle cose, a sciare, piuttosto che al nostro pronto soccorso, e comunque quindi hanno avuto un interesse, anche temporaneo, nei nostri confronti. Quindi l'interoperabilità delle basi dati che cita la legge, significa, dobbiamo mettere tutti questi sistemi, riversandoli, dal punto di vista tecnico è un'affermazione un po' semplicistica, ma prendetela così, riversandoli in un contenitore in cui stiano tutti insieme. ci sono, non so chi di voi ha seguito l'incontro di giovedì di Ercolani, del team dell'Italia Digitale, che ha parlato di queste cose, molto velocemente, tutti questi concetti di CRM trovano nel piano triennale, fatto dall'Agide, dal governo, e quindi diciamo nelle direttive nazionali, degli spunti e delle intersezioni molto forti. Naturalmente questo sistema è basato sul cosiddetto speed. Sempre quel soggetto di prima che si è accorto che il medico di base era andato in pensione, è uscito dall'ambulatorio, che era vuoto, ed è andato allo sportello shelter evoca. È un caso vero questo, non del trentino. Speed sapete che abilita la possibilità online di fare un sacco di cose, senza dover perdere tempo e andare allo sportello. Però i servizi online delle regioni devono essere, virgolette, brutta parola, speed dati, cioè devono essere messi in condizione di accettare quelle credenziali che consentono appunto di fare, in questo caso, la shelter evoca. Allora, quel soggetto non va allo sportello shelter evoca dove aveva perso una mattina, va a casa, si collega, e scopre che il servizio di shelter evoca di quella regione non è speed dati, e quindi non può fare il cambio medico con speed, ma lo può fare con delle credenziali di quella carta dei servizi che ovviamente non possiede. Quindi speed è fondamentale. Gli avvisi, il piano triennale parla chiaramente della necessità di raggiungere il cittadino attraverso la quarta riga, cioè il domicilio digitale, con un sistema di avvisi che sia multicanale, cioè io potrei avvisare quel cittadino con una mail, lo potrei avvisare con un messaggio su WhatsApp oppure con un messaggio SMS. La NPR, ultima cosa, è l'anagrafe nazionale della popolazione residente, cioè la base dati di cui stiamo parlando è naturalmente, potenzialmente, già adesso, in realtà con qualche ancora mese e forse anno di attesa, perché i comuni trentini stanno entrando progressivamente, in NPR è la base dati di riferimento per costruire quello che vi ho fatto vedere prima. Ecco, cerco di chiudere su questa, non spaventatevi dalle tecnicismi, cerco di spiegarla velocemente. Allora, abbiamo la famosa base dati, abbiamo due grandi mondi sopra, abbiamo detto i cittadini, i cittadini stanno qua, stanno nelle basi dati demografiche, che sono nei singoli comuni, progressivamente ce ne sarà solo una, che sarà appunto l'anagrafe nazionale della popolazione residente. Dall'altra parte c'è la base dati e eventi, cosa vuol dire? Quando ognuno di noi fa una cosa compatta, per esempio, fa una richiesta di iscrizione scolastica, piuttosto che una transazione di qualsiasi tipo in uno dei sistemi della provincia autonoma, succede qualcosa in quel sistema. Quindi, si sa che quella persona ha fatto l'iscrizione del proprio figlio a scuola. Bene, tutte queste due cose qui, la base dati del cittadino, con tutti i suoi riferimenti, importantissimi, perché qua io so, per esempio, com'è composto il nucleo familiare. Certo, so dove abita, quanti anni ha, ho tutta una serie di informazioni statistiche, ma so com'è composto il nucleo familiare. E quella è un'informazione importantissima per decidere di che cosa ha bisogno quella persona. Questi due angoli azzurri convergono in una base dati territoriale, cioè attraverso, questo è un sistema software che non vi sto a raccontare, convergono qua. Quindi qua immaginate in un unico posto di avere le due basi dati insieme. Quindi di avere, proviamo a dirla in un modo un po' brutale, se il mio figlio è un grandissimo consumatore di copertoni della bicicletta, non so se vi capita, ne consuma un numero spropositato, perché frenando bisogna fare la derappata, c'è tutta una logica, un'illogica anzi, e con Amazon sono andato a vedere quanti ne ha comprati nel 2012, 2013, 2014, e il numero era davvero impressionante. Allora, Amazon è un CRM, è un CRM, è vero, è un sito di commercio elettronico nel nostro immaginario, ma in realtà se voi andate nella, non so se lo usate, negli miei ordini, vedete tutti i vostri dati anagrafici e vedete tutte le vostre transazioni, i vostri eventi di acquisto, ecco, come esempio un po' semplicistico però è un po' lo stesso concetto. Qui che cosa facciamo? Facciamo analisi dati e personalizzazione, qui immagino che sia uno dei peggiori momenti per parlare di questa roba qua, però io penso che invece se ne possa parlare con un po' di coraggio, cioè se è la pubblica amministrazione che tratta i nostri dati io sarei proprio molto tranquillo, se non è Facebook e se non è qualcun altro, quindi che cosa vuol dire personalizzazione? Vuol dire che il discorso di prima penso che sia meglio ricevere un'informazione che mi serve rispetto a una che invece è solo ridondante in cui la PA dimostra ancora di non conoscermi, ecco, quindi devo scriverti che c'è l'iscrizione a scuola se i figli ce li hai perché se no è un'informazione inutile, devo scriverti che il medico lo devi cambiare se è scaduto, non in generale. Sopra questa analisi dei dati, quindi ho costruito il chi sono avanzato, il chi sono lo so qua, il chi sono e di cosa ho bisogno lo so qua e a questo punto ti mando con una piattaforma di CRM ti mando delle informazioni e ti mando dei servizi. Sto sforando Ettore come siamo? Allora, vabbè, qui molto velocemente abbiamo fatto una serie di sperimentazioni e siamo in questa fase qui, si legge un pochino male, ma stiamo scegliendo una piattaforma software di quelle, ce ne sono parecchie sul mercato, diciamo di quelle più grandi, più importanti, la sperimentazione l'abbiamo fatta a metà del 2017 e in questi mesi e stiamo costruendo anche attraverso la collaborazione con altri soggetti del nostro territorio come FBK la base dati. Velocemente ancora, la piattaforma avete un po', spero, capito cosa fa, profila il bisogno del cittadino, gestisce il sistema con un portale, gestisce il sistema degli avvisi, gestisce il flusso delle comunicazioni. Qui un'ultima suggestione è questa, immaginate una mail, siete abituati alla mail, ricevete una mail e vi sembra un gesto semplice, io mando una mail dall'altra parte arriva o non arriva e fine. Queste piattaforme di CRM fanno una cosa, così magari immaginate cosa può fare un Amazon quando gli scrivete o quando scrive a voi soprattutto, fanno una cosa molto più complessa, cioè definiscono dietro la macchina un workflow, un giro, un percorso in cui qualsiasi reazione che io faccio perché ho ricevuto la mail è tracciata e nota chi l'ha mandata. Questo è un concetto un po' controintuitivo, perché chi manda normalmente manda una mail al buio, non sa cosa succede dall'altra parte, l'ha letta, non l'ha letta, quanto ci ha impiegato a leggerla, con cosa l'ha letta, col telefono, con un pc, ecco. E invece per fare queste cose qui è importantissimo perché se io ho mandato una mail e non so minimamente cosa è successo dall'altra parte non posso pensare che sia stata una mail efficace. Quindi attraverso questo percorso, questi sistemi, le mail possono essere per esempio riconfigurate, ne posso mandare un'altra, posso mandarti un link a una pagina nel quale compili delle cose, posso fare un sacco di cose in più. Il ruolo della base dati l'abbiamo un po' detto e chiudiamo, conoscere i cittadini trentini, strutturare in modo aggregato le transazioni e proteggere i dati a un livello molto alto. L'ultimo concetto importante, noi stiamo in un paese che ha un sacco di base dati, l'agenzia delle entrate ne ha una, la sanità ne ha un'altra, quindi il ruolo di questa nuova base dati è quello di interagire anche con tutte le altre. Io mi fermerai qua che penso di aver sforato. Grazie Ettore, a te. Grazie. Grazie. Bene, io sono Ettore Turra, lavoro all'azienda sanitaria e sono responsabile delle tecnologie o dei sistemi informativi. La mia struttura ogni giorno gestisce milioni veramente di dati di transazioni dei cittadini, pazienti e lo deve fare in modo sicuro, più possibile, in maniera continuativa, affidabile, ma per fare cosa? Essenzialmente noi dobbiamo nei confronti dei nostri colleghi che sono i medici e gli infermieri far sì che loro possano condividere informazioni per fare delle cure o prendere in carico i problemi dei cittadini e dei pazienti in maniera migliore e possibilmente anche senza far perdere loro del tempo perché è l'assillo giustamente dei medici e degli infermieri di usare dei sistemi che non facciano perdere ulteriori tempo. loro hanno davvero nel tempo la loro risorsa più importante. Per noi cittadini mi metto mezzo anch'io la necessità è di semplificare possibilmente la vita e le interazioni con la sanità. Un esempio di questo è lì in quel gazebo in quel tendone proprio di questi giorni la possibilità per ciascuno di noi di portare con sé i propri referti e consultarli attraverso il proprio dispositivo mobile e il proprio telefono. Un altro esempio sappiamo che qui in Trentino è stata la prima provincia o comunque regione italiana a consentire di far sì che se il medico prescrive un farmaco il cittadino lo ritira in farmacia senza dover passare dal medico. Questi sono esempi di servizi che devono essere semplici per il cittadino nonostante dietro abbiano molta complessità. Allora velocemente qui un progetto che è un po' nella direzione nella strategia che ha raccontato prima Alessandro cioè Alessandro che cosa ha detto essenzialmente che noi dobbiamo offrire ai nostri cittadini o ai nostri pazienti come in questo caso servizi che siano il più possibile personalizzati sulle proprie esigenze e poi dobbiamo mantenere il contatto con i nostri in questo caso pazienti ma potrebbero essere i cittadini lungo un loro percorso cosa succede invece nella maggior parte dei sistemi sanitario o comunque della pubblica amministrazione che le informazioni che vengono accumulate in una determinata fase faccio finta in un ricovero poi non vengono passate alla fase successiva faccio finta quando un paziente torna alla propria situazione abituale che può essere di piena salute oppure di cronicità di domicilio ecco noi dobbiamo cercare invece di far sì che le informazioni più importante vengano condivise tra una fase e un'altra dell'esperienza che ciascun cittadino che ciascuno di noi svolge nei confronti della pubblica amministrazione o nel nostro caso della sanità il progetto è rivolto all'assistenza domiciliare l'assistenza domiciliare è un tema importantissimo per qualsiasi sistema sanitario perché le persone vivono sempre più a lungo e questo di per sé è un dato positivo nascono sempre meno bambini questo è un po' meno positivo insomma la popolazione invecchia e questo fatto porta con sé la conseguenza che aumentano gli anni che ciascuno di noi vive in uno stato di non piena salute questo tipo di situazione non deve essere curata negli ospedali perché gli ospedali sono delle macchine delle strutture che sono fatti per ricoverare e curare persone nel loro momento di bisogno più acuto più proprio di picco diciamo del proprio problema che può essere una patologia può essere anche una situazione invece fisiologica come ad esempio un parto se vogliamo che non è chiaramente una situazione avversa questo invece il tipo di condizione che ciascuno di noi porta con sé devono essere più possibile curate a domicilio sia per ragioni di costo ma soprattutto per ragioni di efficacia perché la propria casa è la situazione dove diciamo è più efficace curare e servire queste situazioni cosa comporta se voi ci pensate gli ospedali sono delle strutture dove tutte le persone quindi anche i dati girano intorno al paziente e al letto del paziente cioè abbiamo un paziente che più delle volte non sempre è ricoverato e le persone ruotano intorno al proprio letto la propria situazione e i dati sono lì ciascuno di noi che ha provato questa situazione vediamo che le persone hanno lì dei computer a disposizione con i dati o delle cartelle cartacee non importa da questo punto di vista che sono intorno al letto del paziente è tutto organizzato intorno al paziente e i pazienti vengono il più possibile diciamo curati nello stesso modo addirittura abbiamo addirittura è normale che sia così abbiamo delle procedure per cui ciascuno di noi a parità di condizione deve essere curato il più possibile lo stesso modo secondo dei determinati standard o secondo dei determinati protocolli a domicilio non è così perché a parità di condizione quindi di che cosa ciascuno di noi soffre o ha è molto diverso curare una persona che ad esempio è assistita da una propria rete familiare da una propria famiglia rispetto a una persona che invece è da sola a parità di condizione a parità di quello che diciamo ciascuno di noi di come sta di quale sia la gravità della sua situazione quindi devo curare le persone devo assisterle secondo dei piani personalizzati è diverso curare faccio finta una persona che soffre di diabete di qualche altra patologia che è bene assistita nel proprio nucleo familiare rispetto a qualcuno ed è magari in una rete sociale anche molto viva molto solida qui fortunatamente in Trentino abbiamo comunque un tessuto sociale che tiene molto rispetto a una persona che è da sola e magari la sua condizione è anche meno grave di quella diciamo della persona dell'esempio precedente quindi piano personalizzato e mantenimento di un contatto delle informazioni tra un evento e l'altro perché mentre in ospedale le persone sono lì e tutto viene lì a domicilio a casa io magari ho un accesso il martedì l'accesso successivo è il giovedì perché questo è il mio piano personalizzato ma nel frattempo il mercoledì e il giovedì succede qualcosa e devo avere la possibilità di trasferire queste informazioni per quanto io riesca quindi il progetto che è un po' nella direzione chiaramente quello che ha mostrato prima Alessandro da che cosa parte? Parte da una come dire considerazione cosa succede normalmente a domicilio? I dati vengono raccolti in cartelle o diari o annotazioni che sono cartacee e i nostri operatori facciamo finta i nostri infermieri vanno diciamo a casa annotano copiano questi dati in altri sistemi quando rientrano nel proprio ambulatorio nel proprio studio e poi questi dati vengono trasferiti da altri clinici ma qui chiaramente c'è una forte inefficienza e una forte come dire discontinuità di informazioni tant'è che abbiamo notato che degli operatori medici e infermieri si sono organizzati perché c'è un bisogno e anche se non dovrebbe essere fatto in senso stretto perché non sono sistemi questi del tutto sicuri magari scambiano delle note del tipo non so guarda che quel paziente ha una situazione che non mi piace guarda che ma anche cose non arriverò più tardi piuttosto che mandare delle fotografie relative delle situazioni che vedono piuttosto che fare delle fotografie magari a delle prescrizioni in maniera tale di agevolare il mio infermiere che arriverà dopo rispetto a un cambiamento di un farmaco si sono organizzati e hanno iniziato a usare in assenza di altri mezzi Whatsapp o le email di tipo aziendale allora che cosa abbiamo fatto abbiamo impostato un progetto basato su delle tecnologie anche nuove che cosa che cosa serve questo progetto serve ai nostri colleghi quindi operatori dei punti unici di accesso qui in Trentino e gli infermieri o i medici palliativisti che devono andare a domicilio per scambiare informazioni in maniera sicura per portare con sé delle informazioni relative alla storia clinica del paziente nello stesso modo in cui ciascuno di noi che fosse abilitato e vuole farlo spero tutti possono accedere alla propria storia clinica attraverso il track degli operatori degli infermieri possono accedere in maniera sicura perché hanno in carico il paziente alle stesse informazioni relative a storia clinica referti le prescrizioni farmaceutiche anche questo è molto importante piuttosto che le prenotazioni non so di visite ambulatoriali su un tablet abbiamo deciso di fornire loro un tablet per cui il paziente anche se non ricordasse esattamente quali farmaci sta prendendo a volte i nostri infermieri ed è normale che sia così vanno a casa del paziente i nostri medici e il paziente che cosa gli fa? gli tira fuori una busta tipo quella della spesa con dentro una miriade di farmaci il paziente non è del tutto tenuto a ricordare quali farmaci sta prendendo con quale posologia allora hanno gli appunti così con questo sistema vedono esattamente quali sono le prescrizioni che i medici hanno svolto e sanno quali sono le terapie quelle più importanti in uso in atto in quel momento quindi due tipi di ruoli il primo ruolo è di un operatore che deve organizzare il percorso domiciliare ed è personalizzato quindi magari ad Ettore si prevede un numero di eccessi settimanali a un'altra persona invece giornalieri per fare che cosa ad Ettore una cosa a un'altra persona un'altra cosa quindi organizzare questi piani assegnarli a degli infermieri di riferimento che svolgono il ruolo un po' di coordinare un po' tutte le cure a domicilio e poi gli infermieri o i medici che vanno a casa qui sto pensando soprattutto in questa fase i nostri medici che sono dei palliativisti o dei medici territoriali possono scambiare informazioni e tingere informazioni e annotare le informazioni in tempo reale il tipo di applicazione qui non vado troppo oltre è un'applicazione che gira su un tablet perché ovviamente i nostri operatori non dispongono di un computer a casa del cittadino quindi devono portare con sé l'informazione e il formato più corretto era quello di un tablet che è la giusta diciamo compromesso tra portabilità e legibilità e una volta che leggono il loro piano e come questi sono tutti i dati finti ovviamente sono nomi inventati e vedono la cronologia degli accessi che sono stati programmati di quelli che sono stati conclusi che cosa possono fare beh questo è un caso dove un infermiere vede che questa signora che non esiste ma si chiama qui Giulia Bariletti è appena venuta a casa da un ospedale di missione protetta non leggo molto in seguito un intervento al femore un caso abbastanza frequente specie nella popolazione anziana allora che cosa fa prima di andare a casa già si collega con l'anagrafe vede dove è dove non è qual è il domicilio la geolocalizzazione per cui può anche organizzare il proprio percorso e raccoglie già informazioni se vuole relativamente a quello che è successo a questa persona a questa Giulia del caso prima di andare a domicilio a domicilio ha bisogno di annotare informazioni relative a seconda dei casi della gravità possono essere delle note molto semplici tipo il paziente non presenta questo sintomo oppure la situazione sta migliorando o in situazioni più complesse misurazioni scale scale relative a determinate patologie insomma annotare delle informazioni relative a dei problemi degli obiettivi di salute come stanno andando insomma situazioni che devono essere molto varie a seconda del livello di gravità del paziente e qui vedete la differenza rispetto agli ospedali cioè negli ospedali l'informazione è molto il più possibile standardizzata per motivi di sicurezza dobbiamo assicurare che le persone a parità di patologia a modo di stare ricevano esattamente la stessa sequenza diciamo di trattamenti qui a domicilio abbiamo situazioni molto variabili e quindi anche il programma di cura è fortemente diciamo personalizzato ed è per questo che siamo un po' nella logica del progetto Io Trentino non vi tedio oltre con questi esempi avevo detto abbiamo dei piani di cura vengono svolte delle misurazioni sempre dagli operatori come sta andando questo progetto che è stato finora adesso in fase di estensione ma finora è stato provato negli ultimi mesi nel nostro ambito delle giudicarie e rendena quindi un po' centrato sul PUA punto unico di accesso di Tione ma adesso lo stiamo espandendo in tutto il Trentino perché non ha senso fare delle cose dal nostro punto di vista che funzionino in una valle o in una città e non dalle altre parti allora noi abbiamo messo tre obiettivi per questo progetto da un lato rapidità d'altro canto anche il fatto che lo usassero i nostri operatori e che poi ci fosse un certo livello di soddisfazione il progetto è stato sviluppato in tempi molto brevi quattro mesi di sviluppo più altri tre mesi di messa a punto perché chiaramente qui la slide si è completamente un po' rovinata ma non importa che cosa hanno detto gli operatori e gli infermieri beh innanzitutto non è un sistema che fa perdere il loro tempo ma anzi glielo fa risparmiare loro si portano dietro le informazioni con sé sempre e questo è un vantaggio enorme hanno la storia clinica hanno degli alert questo è stato molto apprezzato non ce lo aspettavamo neanche cioè quando un paziente ad esempio in base al proprio piano di cura ha da ripetere un esame a quattro mesi il sistema lo avverte oppure anche per cose più amministrative ma importanti anche per la sicurezza diciamo e della documentazione non ho chiuso un accesso non ho rendi contatto e tutto viene in tempo reale il sistema la sera mi avverte e mi dice guarda che stiamo arrivando alla mezzanotte non mi ha ancora chiuso l'accesso di oggi cosa sta succedendo questo è importante può sembrare una cosa un po' come dire di pedanteria ma in realtà dobbiamo assicurare che le informazioni siano aggiornate e non rimangano come dire parziali perché su queste informazioni chiaramente tutti gli operatori devono prendere delle decisioni mi fermerei qui visto il tempo tanto l'idea era di darvi una sensazione abbiamo un piano di sviluppo e abbiamo un piano anche di estensione diciamo di queste funzionalità per andare più incontro alle esigenze dei pazienti in questo momento ci sembrava utile dare un po' come dire questo tipo di informatizzazione dell'assistenza domiciliare in maniera tale che i nostri pazienti sono sempre di più non solo in Trentino ma in tutti i sistemi occidentali è giusto che sia così quelli che vengono trattati a casa e non negli ospedali avessero lo stesso livello di informazione di supporto che normalmente già da anni garantiamo all'interno delle nostre strutture ospedaliere perché ovviamente come tutte le aziende sanitarie siamo partiti da lì mi fermerei qua per non grazie mille Alessandro Bazzica e Ettore Turra prima di proseguire con il prossimo Grazie mille Grazie mille